L'incontro sul rapporto tra giovani e casa promosso da Ance e accolto da Redopiù ha proposto un ampio ventaglio di dati, prospettive e punti di vista. Ciascuno dei relatori, dagli esperti di Università Cattolica in Subra fino agli addetti ai lavori, come Francesco Castelli, presidente dei Giovani di Ance, Cedric Trebaldo, Iuri Franzosi e Alessandro Pascucci, ha tentato di trasmettere i nuovi concetti dell'abitare, così come studiati o recepiti sul campo, nella loro quotidiane interlocuzioni. Impossibile riassumere in pochi secondi i tanti dati, le analisi e le testimonianze emersi durante il dibattito, ma restare impressa è la profonda trasformazione delle nuove generazioni, le quali, almeno nell'ambito delle imprese e delle professioni, si smarcano dalla cultura delle fondamenta. Noi, i nostri padri e nonni, abbiamo sempre visto la casa non solo come luogo in cui vivere, ma come dimensione esistenziale, in cui piantare radici, riconoscersi e invecchiare. I giovani chiedono case pronte, accessoriate, funzionali, possibilmente collocate in centri abitati dotati di servizi, infrastrutture. Tradotto, non sono solo i telefoni ad essere diventati smart, è il concetto di quotidianità ad aver accelerato il passo e a tenere le valigie pronte perché cambiare indirizzo e lavoro non è più eccezione, bensì regola. Resta da vedere se, o in che misura, questa dinamicità possa sfociare nella provvisorietà, rifiutando e superando il valore della stabilità e della costruzione. Ma qui rientrano in gioco principi che dipendono dalla persona e almeno su quelli, tempo, mercato e abitudini, contano fino a un certo punto.